Grazie, grazie a Roberta Caffarotti, direttore scientifico di Heart Day Italia. Tocca a me questa parte celebrativa, l'ultima parte di questo interessantissimo incontro di oggi qui alla FAO. Siamo qui, come tutti ben sapete, per la giornata mondiale dell'ambiente, una giornata voluta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ben 42 anni fa, ma si festeggia oggi la 41esima edizione, perché appunto nel 72 venne istituita, ma celebrata nel 73, ovvero l'anno successivo. Una giornata nella quale anche singolarmente ognuno di noi dovrebbe prestare attenzione alle buone pratiche, perché tutti noi possiamo contribuire, anche con piccoli ma significativi gesti, a proteggere e a migliorare il nostro pianeta. In queste ore anche i grandi della Terra hanno, come dire, testimoniato cosa faranno per il futuro, tipo Bill Gates ha deciso di mettere su una fondazione che si occuperà proprio di questo tema, la Michelle Obama, addirittura sulla stampa, ha rilasciato una lunghissima intervista dichiarando appunto il suo impegno per un'alimentazione sana e per uno sviluppo sostenibile. Ricordiamo, lei che alla Casa Bianca ha fatto il suo piccolo orto, quindi piccoli gesti che possono sicuramente migliorare l'ambiente. Grazie comunque per aver celebrato con noi e assistito con noi a questo interessante dibattito, in un incontro, diciamo, tra persone altamente formate che ci hanno illustrato anche come cambierà e quali sono i sistemi economici che ci daranno un migliore ambiente, un migliore pianeta dove potremo noi vivere tutti in armonia, si spera. Ma per entrare comunque in questo momento celebrativo, perché dopo aver discusso e aver sentito tante idee davvero interessanti, io chiamo qui accanto a me il presidente di Heart Day Italia, Pierluigi Sassi. Ecco, quest'ultima parte breve la vogliamo dedicare a compiere un piccolo gesto simbolico nei confronti della città di Roma, con gli amici di Shoot4Change, il blog guidato da Mendola che poi ci racconterà un po' questa bellissima esperienza. Abbiamo realizzato una mostra fotografica, come si diceva, in cui abbiamo raccontato l'impegno quotidiano di alcuni personaggi che abbiamo voluto definire eroi, magari eroi non consapevoli in alcuni casi, in altri invece consapevoli che però ogni giorno si confrontano con il proprio sistema sociale, con il proprio ecosistema, nel tentativo di portarli il giusto rispetto, di assecondarne il decorso naturale. Ecco, queste storie d'eroi che volevano essere emozionali e che volevano essere anche capaci di contaminare ci hanno aiutato a celebrare la giornata mondiale della Terra lo scorso 22 aprile e garantendoci anche dei risultati media straordinari abbiamo avuto un'attenzione da parte di tutti bellissima oltre ad avere un nostro programma televisivo, quindi insomma è stata una bella esperienza. Oggi questa mostra la vogliamo donare alle periferie romane, un'idea nata nell'incontro con l'assessorato alle periferie del Comune di Roma, ma in particolare l'idea bellissima di Luca Tanasio che ce l'ha proposta e che ringraziamo e che invitiamo anche lui ad essere con noi. Vieni, vieni. E l'abbiamo voluta regalare alla città, appunto, dicevo, prima esponendola al Maxi in uno dei musei più importanti della nostra capitale e poi portandola per le strade della città, per cui questa mostra è stata ospitata nel piazzale Alto del Gianicolo, uno dei punti più belli di Roma e quindi è stata lì anche esposta ai rischi del vandalismo e dei cittadini che invece l'hanno rispettata e questa è stata una bellissima constatazione. E oggi, proprio in questa giornata, insieme anche all'assessorato per l'ambiente che ha collaborato a questa iniziativa con l'assessore Stella Marino che invito anche lei ad essere con noi, la vogliamo donare a un centro culturale delle periferie romane che possa essere veicolo permanente di queste storie. Poi dopo, diciamo, questa mostra potrà essere prelevata da quel centro e essere portata anche altrove, laddove delle istituzioni, delle aziende o chiunque voglia sostenere i costi di questo trasporto, ci aiutino appunto ad allargarne il più possibile la diffusione. Un ultimo sforzo che abbiamo fatto è stato quello di tradurre queste storie e di farne un documento internazionale che attraverso il Tantam della rete, attraverso gli amici di Connect4Climate che oggi abbiamo conosciuto, ma anche attraverso la FAO, attraverso l'Airday Network, attraverso tutti gli amici anche e soprattutto di Shoot4Change che è un blog internazionale. Vorremmo che questa cosa diventasse vitale, contaminasse un po' tutti cercando di creare quelle sensazioni utili a rispettare l'ambiente. Grazie. Sì, allora chiediamo, visto che Amendola è uno dei protagonisti, degli importanti scatti della mostra, giusto così per far conoscere il nostro pubblico, gli Eroi della Terra, chi sono stati? Gli Eroi della Terra siamo noi, noi abbiamo voluto dimostrare con questa mostra che non serve tanto per fare tanto, molto spesso serve poco, basta poco per fare tanto. Normalmente il binomio grande fotografo è sempre con grande storia raccontata. Noi d'accordo con gli amici di Arde Italia, con Pierluigi e gli altri amici, Pippo Honorati, tutti quelli che hanno curato la mostra fotografia, abbiamo deciso invece di ribaltare questo paradigma e assegnare a grandi fotografi, e quantomeno a fotografi di grandissima qualità, delle piccole e grandi storie locali, per dimostrare che sono le piccole storie alla fine che cambiano il mondo, e anche per dimostrare alla gente che basta poco per raccontarle. Non c'è niente di peggio di una bella storia non raccontata, come non c'è niente di peggio che è una bellissima mostra non vista, ed è per questa la logica, questa è la logica che ci ha spinto, felicemente, a donare permanentemente la mostra, perché deve essere vista. Non c'è niente di più triste di una mostra che nasce a grandissimo successo nazionale e internazionale, e poi viene chiusa, perché normalmente, voi sapete, chi frequenta le mostre sa che le mostre si realizzano nel momento in cui viene emanato il comunicato stampa, si fa l'innaugurazione di vernissage, poi vanno in discesa verso la fine, già si comincia a pensare a disinstallarla. Invece questa è una mostra che deve essere mantenuta viva, vivace, e il racconto deve essere un racconto collettivo che deve continuare. Infatti noi chiediamo a tutti quanti di continuare a raccontare e segnalarci queste piccole storie. Se mi consente un attimo, noi abbiamo alcuni protagonisti di queste storie. Sì, li conosceremo a breve. Sono i ragazzi di Baricamà, che è una piccola impresa sociale, una cooperativa sociale, che fa del micro reddito, rivolto e del gestito, fondato e gestito da ragazzi africani, è una storia di integrazione sociale, di inserimento, di imprenditorialità, di cooperativa sociale, e di sicurezza alimentare. Loro fanno uno yogurt buonissimo, straordinario. Senza conservanti, senza zuccheri, con latte biologico. C'è neanche lo yogurt. Adesso lo dovremmo assaggiare, perché io sono molto curiosa, sono un amante dello yogurt. Tra l'altro anche per fare una fotografia con noi chiamerò uno dei ragazzi di Baricamà con noi. Comunque questo, noi, come ho detto, anche in chiusura del Maxi, in negozio del Maxi, una storia non è nulla senza qualcuno che la racconti, ma un racconta storie è nulla senza nessuno che lo ascolta. Quindi grazie a tutti quanti. Grazie a voi. Ancora qui alla mia sinistra, come diceva appunto Pierluigi, ci ha raggiunto l'assessore all'ambiente, Stella Marino. Assessore, allora oggi giornata completamente dedicata all'ambiente. Quale impegno si prende l'assessorato all'ambiente di Roma Capitale? Sì, intanto io rappresento Roma Capitale e in parte rappresentiamo anche il collega Masini che ha costruito una parte di questo progetto e che oggi non è potuto essere presente. L'impegno è stato non da oggi, diciamo dal primo giorno dell'insediamento, perché le questioni ambientali, le questioni più in generale di sostenibilità di questa città scontano ancora un ritardo notevole, uno su tutti, tanto, diciamo, e tutti i giorni sui giornali e il tema dei rifiuti, non vi tedio ulteriormente con questa problematica, ma è evidente che per cambiare l'intero settore, quando quel settore invece è ereditato come un settore molto impattante, noi abbiamo bisogno di un po' di tempo, ma bisogna iniziare a fare delle azioni subito ed è quello che questa amministrazione ha iniziato a fare. Fra l'altro, molte delle tematiche ambientali sono delle tematiche sociotecniche, cioè hanno una grossa complessità dal punto di vista tecnico, ma ha un grande impatto sociale, quindi c'è una necessità di un coinvolgimento della città su tutti e due, su tutti e due fronti. Questo è uno sforzo enorme, uno sforzo che richiede anche tanta comunicazione ed è assolutamente vero, è necessario su tutte le tematiche ambientali costruire una comunicazione e una comunicazione corretta e questa è una delle grandi difficoltà. Poi l'ulteriore sforzo che fra l'altro ci vede partecipare proprio in questi giorni, perché a pochi metri da qui, al macro, a testaccio, si sta svolgendo il primo workshop del progetto di quello che ci è stato finanziato, abbiamo partecipato al bando Rockefeller, alla Fondazione Rockefeller, sulle città resilienti, siamo una delle 33 città che è stata vincitrice del bando sulle 100 città resilienti e quindi stiamo iniziando a lavorare con il supporto, la Fondazione Rockefeller lavora mettendo a disposizione degli enti locali e dei soggetti tutto un know-how e anche personale per poter iniziare a costruire quello che è il piano della resilienza e dell'adattamento agli shock sia climatici ma anche di altro tipo delle città. Anche in questo Roma ha mostrato purtroppo la propria fragilità, basta ricordare l'alluvione del 31 gennaio e quindi noi abbiamo iniziato coinvolgendo in questo primo workshop NGO, associazioni, università e altri stakeholders, abbiamo iniziato a ragionare per la costruzione di un piano di resilienza e di adattamento delle città di Roma. Quindi io credo che questi siano i primi segnali di un grande impegno che la città, che la nuova amministrazione sta dando su tutte le tematiche ambientali anche perché alcune cose non c'è più tempo, non possiamo più aspettare e altre perché crediamo giustamente molto, stiamo richiedendo, io vedo qui ci sono alcuni presidenti di municipio, quindi l'amministrazione di Roma Capitale è fatta anche dai presidenti di municipio che assieme a noi tutti i giorni sono sul fronte, perché affrontare dei cambiamenti in una città come Roma non è nemmeno banale, non tutti sono pronti, quindi un lavoro incessante sui territori e quindi ringrazio loro e tutta l'amministrazione che noi stiamo pressando e stressando perché dobbiamo portarci a livello delle altre capitali europee partendo da un dato di fatto oggettivo perché così non è e quindi questi sono gli impegni che stiamo portando avanti, che abbiamo iniziato in questo primo anno e porteremo avanti nei prossimi 4 anni. Grazie. Allora noi a questo punto chiamiamo anche visto che la mostra sarà donata alle periferie romane quindi all'assessorato e qui accanto a me c'è Luca Tanasio che rappresenta l'assessorato allo sviluppo delle periferie. Quanto è importante avere una mostra che rappresentano le migliori pratiche del territorio nelle periferie? Beh innanzitutto porto i saluti per niente formali dell'assessore Masini che io rappresento dico veramente per niente formali mi è arrivato un whatsapp pochi secondi fa insomma quindi che posso mostrare che segue e ha delegato me in questa fattispecie con molto entusiasmo e con molto interesse gli sviluppi e noi abbiamo avuto questa idea insieme a Pierluigi di esportare questa mostra che abbiamo visto un po' di tempo fa al macro molto significativa in una zona della periferia romana proprio con l'intento di donarla alla gente metterla proprio in mezzo nella piazza diciamo al centro culturale Elsa Morante frequentatissimo e molto usato perché proprio la usassero la toccassero la sentissero loro e ne traessero ispirazione così come abbiamo fatto noi noi la delega che ci è stata affidata è quella dello sviluppo delle periferie e noi crediamo moltissimo che si crei sviluppo attraverso tutto ciò che ruota attorno alle tematiche dell'ambiente l'ambiente non è una questione solo etica è scontato questo ma è una questione di grandissima potenzialità di sviluppo Roma sapete tutti che è il comune con la maggiore estensione di territorio agroalimentare d'Europa questo elemento non può essere ignorato va utilizzato va sfruttato in maniera sana evidentemente noi vorrei citare molto brevemente due progetti su cui stiamo lavorando moltissimo negli ultimi tempi uno è questa inaugurazione che abbiamo fatto la scorsa settimana della mensa la prima mensa scolastica in un territorio metropolitano a chilometri zero veramente a chilometri zero anzi addirittura c'è la fattoria che produce il cibo che i bambini per il momento in maniera sperimentale mangeranno una volta al mese all'interno di un territorio che non supera il chilometro c'è una filiera che abbiamo diciamo costruito insieme che produce tutto dalla pasta fino ai dolci della merenda diciamo e una volta al mese questi bambini mangiano in maniera sana controllano quello che mangiano partecipano alla produzione perché una volta al mese vanno anche a vedere e a fare fattorie didattiche diciamo così non solo avranno in affidamento dei microorti che svilupperanno loro stessi e questo crea lavoro perché ci sono tantissime fattorie locali che altrimenti che faticano tantissimo a trovare visibilità e mercato che invece sono messi in una filiera che attraverso la garanzia dell'amministrazione può sviluppare grandi potenzialità l'ultima cosa che direi in un secondo è questa gara calore che il mio assessorato e il nostro assessorato ha portato avanti con molta convinzione per cui da adesso in poi il bando sul riscaldamento dei 1800 edifici pubblici di Roma non si farà più come una volta a ribasso cioè se la giudicava chi appunto aveva la quota minore e puntava chiaramente a guadagnare di più sprecando più energia ma da adesso in poi le aziende che si aggiudicano il bando guadagneranno sull'efficienza energetica ecco questi sono due progetti su cui noi stiamo lavorando moltissimo e ringraziamo ancora una volta l'occasione che ci dà Earth Day Italia di rendere visibile questo sforzo e a questo punto io chiamo qui accanto a noi il direttore del centro culturale Elsa Morante Gabriella Paolino e il presidente del nono municipio Andrea Santoro ecco qua allora anche per loro è un centro culturale che ospita tante belle mostre e immagino sia contento di ricevere Cambiamo Clima Assolutamente sì buongiorno a tutti i centri culturali la rete dei centri culturali è gestita da Zedema Progetto Cultura con il coordinamento dei municipi e ovviamente dell'assessorato allo sviluppo delle periferie e i centri culturali dovrebbero essere una risposta al territorio per ospitare iniziative che toccano a 360 gradi le arti ma anche aspetti sociali di crescita di responsabilità civile quindi forte è l'impegno dei centri culturali nell'ospitare iniziative soprattutto con le scuole perché educare i bambini sin da piccoli su quello che è l'ambiente e il rispetto vuol dire degli uomini migliori nel futuro e quindi siamo particolarmente felici di ospitare questa mostra perché vuol dire che il centro culturale si arricchisce di un'ulteriore offerta culturale scusate il giro di parole che potremo subito proporre alle scuole insieme alla collaborazione col municipio a partire con il nuovo anno scolastico e adesso invece magari la offriremo ai visitatori che verranno comunque a vedere le rassegne estive perché abbiamo anche un'arena e quindi è un centro come diceva anche Luca Attanasio molto frequentato per tutti i livelli di età e quindi potrebbe essere una buona occasione sia per la mostra per essere vista ma soprattutto anche una buona offerta per il territorio quindi grazie ancora per darci questa opportunità e una sì prego e quindi il presidente del nono municipio Andrea Santoro che ci dice di questo municipio che riceve questa importante mostra è un municipio molto attivo sul territorio che ha un grande spazio al verde devo dire che è un municipio molto contento oggi di ricevere una mostra di questo tipo perché e quindi ovviamente ringrazio a nome si può dire di tutti i cittadini del municipio e dell'Italia per questa per questa donazione che proveremo a tenere un bel po' al centro del Samorante e sì è un municipio che sta cercando anche se con fatica ma poi sono le cose più belle quelle che si fanno con fatica di cambiare in qualche modo anche la mentalità dei cittadini soprattutto di quelli più piccoli con la massima attenzione legata al tema del rispetto dell'ambiente del rispetto della terra lo accennava l'assessore Marino prima stiamo cercando di cambiare qualche cosa in questa città oggettivamente non è semplice e devo dire che anche diciamo sul dibattito che c'è stato che c'è stato prima noi siamo un municipio che in qualche modo ha vissuto questa ad esempio questa vicenda del toto di scarica post Malagrotta e devo dire che quella vicenda in realtà ha stimolato molti cittadini anche a capire quelle che devono essere le buone pratiche ma non solo l'attenzione verso la terra l'attenzione verso il riuso e in quel periodo infatti utilizziamo diciamo questa occasione per presentare e presentarvi questo progetto abbiamo incontrato tantissime realtà agricole che sono presenti nel municipio perché quello è un municipio dove c'è una percentuale altissima di agro romano e ci sono decine e decine di aziende che lavorano per bene la terra e abbiamo proposto diciamo loro proprio per superare questa ansia che c'era con l'ipotesi della discarica mettiamoci in rete facciamoci conoscere facciamo conoscere queste realtà che spesso sono eccezionali che sono nazionali e che però i cittadini del territorio non conoscono è nato dopo un come si dice dopo un ampio dibattito questo progetto che si chiama DOM e presentiamo in qualche modo oggi e poi lo presenteremo ufficialmente l'11 giugno al centro del Samorante che è il marchio di denominazione di origine municipale dove non è un qualche cosa in più ma è l'idea di fare rete con le aziende produttrici del territorio sta piacendo molto e secondo me lo spirito giusto dell'utilizzo corretto della terra deve andare in questa direzione proprio perché si diceva prima è importante soprattutto mettere in piedi una rivoluzione che se vogliamo è culturale e questa secondo me può essere una strada giusta e una giornata come questa è assolutamente una giornata giusta grazie per questo passaggio così virtuale perché in realtà non potevamo portare qui i pannelli sono dei pannelli molto grandi io vi chiedo di apporre una firma perché qui c'è appunto la pergamena e quindi Attanasio Paolino e Santoro dovrebbero firmare questo passaggio ufficiale che sigla come dire la consegna da parte di Heart Day Italia della mostra Cambiamo Clima ecco qua ci sono tante penne a vostra disposizione e anche questa come dire è una formalità ma è sicuramente un sì fa cerimonia e per cerimonia per così far festa e l'impegno è preso è un bel impegno sì ora però noi vogliamo conoscere i protagonisti i protagonisti della mostra Cambiamo Clima che ci hanno raggiunto qui purtroppo sono solo due dei 23 perché erano 23 i reportage fotografici sì è una buonissima rappresentanza e visto che qui al mio fianco c'è sicuramente un rappresentante di Baricamà lo riconosco perché so che è un gruppo parla di una storia che ci racconta diciamo il loro percorso di integrazione giusto ragazzi che provengono dal Mali che fanno prodotti eccolo qua lo vedo qui accanto a me lo yogurt che poi proverò grazie per aver invitarci a questo convegno siamo molto felici di portare di dare questa mostra alla comunità di Roma e oltre questo dovremo fare capire alla gente che noi siamo noi emigrati che raccogliamo tutti questi verduri nelle campagne che siamo sempre sotto sfruttamento che stiamo cercando di capire stiamo cercando di trovare un modo che siamo ben trattati a queste campagne però è molto difficile di fare questo lavoro oltre a questo abbiamo cominciato a produrre yogurt yogurt che facciamo qui a Roma da 2011 abbiamo iniziato il progetto da 15 litri adesso siamo a 200 litri alla settimana grazie a gruppi amici che ci aiutano di affrontare tutti questi che noi abbiamo molto difficoltà di parlare in italiano abbiamo capito tutto guarda il nostro sogno è sempre di trovare inserire più nostri amici per imparare in italiano che hanno molto difficoltà di parlare quindi mentre stanno andando in mercati e raccontare il progetto imparano a parlare molto bene in italiano vi ringraziamo molto allora consegnate quindi questo piccolo cadeau all'assessore all'ambiente Estella Marino eccola qua addirittura voi li consegnate in bicicletta vero? sì sì in bicicletta facciamo consegna in bici tutta Roma grazie al progetto anche conosciamo tutto il quartiere da Roma perché prima conoscevamo solo come si dice alcune zone alcune zone termini dove andate più frequentemente in quale zone consegnate di più? ovunque ora consegniamo ovunque tutta Roma diciamo Montemario San Lorenzo Testaccio anche piccole quantità? sì consegna al minimo di ordine 10 euro facciamo anche consegna a domicilio complimenti voglio aggiungere qualcosa? sei contento di lavorare per questo progetto? sì sì sono molto contento perché prima eravamo solo in due ma adesso siamo in sei quindi anche alla settimana facevamo 50 litri ma adesso siamo a 200 litri alla settimana e speriamo che possa ancora aumentare speriamo bene speriamo bene complimenti Barikama sì prego vedete questo è la dimostrazione noi fotografi parliamo per immagini ci piace dire che siamo gli occhi dove portiamo delle immagini riportiamo indietro delle immagini dove non si può andare a vedere di persona ma ci sono delle volte in cui invece di essere occhi invece di far vedere le faccia è così bello sentire le voci e sono storie piccole storie positive di queste realtà ce ne sono ce ne sono tante probabilmente ce ne sono molte di più di quelle che immaginiamo e sono magari dietro l'angolo l'idea del DOM della denominazione di origine municipale del municipio è interessantissima perché va oltre il chilometro zero è il metro zero e ci sono queste storie a metri zero a volte anche a centimetri zero sono dietro casa noi siamo quelli che raccontano è una situazione di no profit lo facciamo in maniera del tutto gratuita lo facciamo in tutto il mondo è una bella storia ne abbiamo raccontate 23 anzi sono 22 belle storie ci stanno però mi piace anche ricordare perché poi tra l'altro ah peraltro questa storia è stata raccontata da Alessandra Fratoni che è qui in sala oggi un'ottima fotografa brava Alessandra tra le 23 storie c'è una storia non positiva che però abbiamo raccontato che è paradigmatica però di come viene sventrato il nostro paese viene trattato male il nostro paese abbiamo raccontato io Bianca Ferraiolo che è qui con me è la storia dei guardiani della terra dei fuochi che è diventata poi uno dei simboli purtroppo di questa mostra la discarica Resit voi conoscete la terra dei fuochi Giuliano San Cipriano d'Aversa Casale dei Principe eccetera eccetera questi custodi da più di 16 mesi ormai da quando abbiamo fatto la storia se no sono passati 18 mesi 19 mesi non percepiscono lo stipendio stanno lì 24 ore su 24 a custodire queste enormi discariche dove abbiamo vomitato tutta l'immondizia di mezza Europa eppure sono lì dalla mattina alla sede sono sempre discariche ho letto la storia sono sempre discariche i fuochi sono stati spenti ma le discariche restano respirano aria malsana eppure resistono lo fanno non credo solamente per spirito ambientalista per spirito di servizio lo fanno anche per una promessa di un lavoro perché manca il lavoro eppure resistono ed è la storia emblematica di un paese che nonostante tutto va avanti con storie positive ma anche con storie negative dove si rintraccia sempre quella resilienza quella briciola di resistenza umana che fa nonostante tutto andare avanti e cercare di rendere cose migliori poco alla volta grazie ancora invece un esempio positivo perché ci piace raccontare anche gli esempi positivi anzi siamo qui oggi per questo ci viene dall'agricoltura sostenibile con Zolle ecco qui le ragazze di Zolle sono 15 aziende tra Lazio e Toscana delle proprio piccolissime aziende che producono sono aziende familiari che producono tutto ciò che si può produrre nel Lazio quindi il Lazio è ricchissimo così come la città di Roma nel Lazio esiste una produzione che va dalla pasta quindi dai grani al latte formaggio e logicamente tutta la frutta carni e quant'altro noi raggruppiamo aziende che rispondono a una serie di criteri sia di qualità del lavoro impiegato appunto che di qualità del tipo di tecniche che si usano sul territorio e consegniamo ogni settimana a 1300 famiglie nella città di Roma i loro prodotti quindi famiglie che altrimenti dovrebbero girare per tante aziende agricole possono direttamente ricevere a casa una selezione di prodotti assolutamente di stagione e di territorio questo è consegna anche voi in bicicletta? sì noi abbiamo anche per queste cose che pesano un pochino di più sì probabilmente il sistema di cargo bike più grande di Europa quello che ci dicono abbiamo strutturato un sistema integrato di biciclette più furgone le biciclette purtroppo non sono italiane è una cosa che ci spiace perché ancora in Italia non c'è questa expertise nel fare bici da trasporto grandi sono bici danesi che possono portare fino a 180 kg per cui portano 7-8 zolle queste scatole qua e vengono consegnate in tutta Roma da baldigiovani contentissimi di farlo felicissimi di questa attività che si è creata e ad oggi ecco anche questo è un esempio di bello impegno perché comunque lavorano in questo sistema otto ragazzi cioè un indotto già solo sulla consegna sulla logistica è una logistica sensata di otto persone là dentro c'è perché siamo curiosi non possiamo vederlo qua dentro ci sono prodotti che arrivano ad aziende dell'agronomano in realtà frutti di stagione sì frutta e verdura di questo momento quindi da melanzane meloni fragole che consegnate al rappresentante dell'assessorato allo sviluppo delle periferie Luca Attanasio e tornerai in bicicletta in ufficio contento adesso questo peso voglio vedere in bicicletta lo porta a casa sì sto con lo scooter però insomma diciamo ecco ecco meglio no grazie grazie ci fa molto piacere peraltro io sono un iscritto a Zolle diciamo quindi e quindi va bene grazie mille allora grazie a voi tutti per essere stati qui oggi giornata mondiale dell'ambiente io sono veramente felice di aver trascorso questa bellissima mattinata in vostra compagnia sì come no lanciare un duplice invito come centro culturale Elsa Morante e anche municipio nono a parte vi aspetteremo tutti l'undice alle ore 18 per l'inaugurazione della mostra e visto che sarà nostra intenzione insieme al municipio di far vedere la mostra il più possibile quindi in questo anno in cui la terremo e forse anche di più il coinvolgimento delle scuole sarebbe bello poter avere la collaborazione di avere delle testimonianze mentre si fa vedere la mostra ai bambini perché la voce e le immagini insieme sono molto più efficaci quindi vi lancio questo invito per poi costruire insieme delle visite guidate grazie ancora grazie ancora un saluto a Pierluigi Sassi Art Day Italia all'assessore all'ambiente per essere stata con noi e Stella Marino all'assessorato alle periferie Luca Attanasio al direttore del centro culturale Elsa Morante qui al mio fianco Gabriele Paolino al presidente del nono municipio Andrea Santoro a Zolle a Baricamà io felicissima di essere stata con voi come vi dicevo all'inizio vi rilancio l'appuntamento all'undici al centro Elsa Morante e vi lascio con un video veramente molto bello io ci tengo è un video realizzato da Heart Day Italia nel quale ognuno si prende un impegno un piccolo impegno per l'ambiente ci sono protagonisti importanti ma c'è anche tanta gente comune testimonial di questo video perché ovviamente il cambiamento parte da ognuno di noi io non spreco l'acqua io ci tengo io sono qui per ascoltare un sogno un pomeriggio dedicato a pulire la spiaggia io ci tengo prometto di fare la raccolta differenziata sempre io ci tengo il mio impegno per la terra è rendere conveniente a tutti dedicarsi alla sostenibilità sia per le imprese che per i cittadini io ci tengo io mi impegno a far rispettare la terra e a sporcarla sempre di meno io ci tengo io prometto di utilizzare la bicicletta sempre io ci tengo il mio impegno sarà quello di utilizzare ancora di più i mezzi pubblici anche per lavoro fallo anche tu io ci tengo da oggi mi impegno a comprare il più possibile cose usate fallo anche tu io ci tengo il mio impegno per la terra andare a piedi e soprattutto di corsa io ci tengo alla raccolta differenziata io ci tengo da mamma mi impegno a dare cimbo più sano ai miei bambini basta merendine io ci tengo fallo anche tu come noi usa il car sharing io ci tengo lancia il tuo impegno per la terra e condividilo sui nostri social io ci tengo e tu?